È di Campobasso, ha 28 anni e si è laureata in scienze internazionali e diplomatiche a Bologna. Poi ha frequentato un master in cooperazione e sviluppo, in occasione del quale ha conosciuto la organizzazione non governativa con la quale collabora, Cooperazione Internazionale, più brevemente COPI. Nel 2014 è stata per sei mesi in Guatemala per un tirocinio che l'ha portata a collaborare con le popolazioni rurali. Gli davamo gli strumenti necessari affinché loro gestissero al meglio o migliorassero la loro gestione dei disastri naturali, cioè che fossero più preparati di fronte alle calamità naturali. I rischi dell'America centrale e meridionale sono comunque analoghi dalle inondazioni agli uragani ed anche ai terremoti. Finito il tirocinio sono tornata in Italia ed è apparsa questa grande opportunità in Peru e da fine ottobre sono in Peru dove lavoro con COPI per un progetto che si occupa di gestione del rischio a disastri naturali. è finanziato dall'Agenzia della Cooperazione Internazionale degli Stati Uniti d'America, USAID, e implementato a Lima, nella capitale, in uno dei distretti, da un consorzio liderato da COPI. Di oltre un milione di dollari è il finanziamento dell'Agenzia di Cooperazione Stati Unitense, USAID. Lima è una metropoli, è popolata da 11 milioni di persone, quindi si può ben capire come sia complicata e variegata. Si passa dai quartieri più turistici ai quartieri più storici, più caratteristici, fino alle periferie. Diciamo che è una metropoli come tante, con le sue problematiche e le sue sfide quotidiane. Problemi nel centro storico, patrimonio dell'UNESCO. Per quanto riguarda la parte del centro storico, a livello di problematiche strutturali, essendo ricco di molti edifici storici, patrimonio, molti di questi sono in decadenza e quindi c'è il rischio che crollino per strada. E essendo patrimonio dell'UNESCO non ci sono risorse per il risanamento? Sì, ci sono. Ma il gruppo da lei coordinato opera nel quartiere popolare del Rimac, lungo una collina non lontana dal centro della città, Serro San Cristobal. È un distretto con varie problematiche, non solo a livello strutturale, in quanto si snoda lungo una collina, il cosiddetto Serro San Cristobal, e ai piedi anche di questa collina, ma anche diverse problematiche non solo strutturali ma anche sociali. La zona invece più problematica è quella che si snoda proprio lungo questa collinetta, perché per esempio purtroppo anche a causa di scarse risorse economiche, molte famiglie sono costrette a costruire le proprie case lungo questa collina, quindi nella roccia, quindi mettendo a rischio, essendo soggette a vari rischi e essendo abbastanza vulnerabili. Al progetto collaborano anche una ONG francese e una irlandese. Continueremo a lavorare nei prossimi anni, perché il progetto dura fino al 2017, in collaborazione con gli attori locali, nazionali e internazionali. L'obiettivo è semplicemente dare un supporto a questa popolazione affinché appunto a livello micro e macro sia più preparata di fronte alle prossime calamità naturali che purtroppo avverranno in seguito agli effetti del cambio climatico. Come è stata vissuta e come giudichi la visita di Obama a Cuba? Ma sì, io penso che sia una svolta storica e normale, diciamo che più che altro vorrei aspettare qualche anno prima di dare un giudizio vero e proprio, sicuramente è stato un evento storico.